Musica Da Giovia Ponte Buriano a bordo di imbarcazioni eccezionali per una giornata all'insegna della pazza navigazione è la tradizionale spollinata, la regata della fantasia. A vincere quest'anno nella categoria originalità è stata l'imbarcazione L'Oiello, dietro a tutta braccia e terzo posto infine per tutta matta. Tra velocisti invece primo posto per Toffì di Paolo Lacrimini con un'ora e 06, seguito da Speriamo che arrivi di Danilo Casini con un'ora e 27 ed infine Splendida l'imbarcazione di Gualberto Gualdani con un'ora e 59. Premio fuori gara per la simpatia Barca Barta Sposi ed infine premio fuoritempo massimo alla barca Flistro. Musica 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 Musica